Suore Elisa Chidanè, direttrice di Comboni Femme, ci dici due parole su di te e sul tuo lavoro. Sono missionaria komboniana e mi piace sottolineare che pur essendo eritrea mi considero anche cittadina del mondo, ho lavorato alcuni anni in America Latina ed è bello vedere che l'Africa parte per l'America Latina e da alcuni anni invece sono qui in Italia nel lavoro della redazione del Comboni Femme, la rivista delle missionarie komboniane. È una rivista che lavora sull'informazione con una particolare attenzione ai temi delle donne e quindi anche del ruolo delle donne nel lavoro di costruzione della pace. Sì, ha una pretesa questa rivista, una pretesa che ha 80 anni e che vuole veramente colmare una lacuna che esiste nei mezzi di comunicazione dove spesso e volentieri se si parla di donne sono argomenti molto frivoli, noi vogliamo veramente lasciare una traccia di quello che ogni giorno le donne fanno nel mondo, dappertutto e sottolineare veramente il ruolo importante e indispensabile della donna. Per cui pensiamo che sia davvero una rivista che faccia un buon servizio alla collettività e in particolare alle donne. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto la triste notizia di tre sorelle vittime della violenza in Burundi. Puoi fare un breve ricordo di loro? Sì, è bello ricordare suor Lucia, suor Olga e suor Beniamina, le tre sorelle uccise appunto come è stato detto in Burundi. Quello che sorprende in questo fatto è che si parla di loro quando non ci sono più, appare la loro presenza quando non ci sono più. Invece sono tante, sono centinaia di donne missionarie che in tutto il mondo, ogni giorno, dedicano la loro vita per accompagnare i popoli a realizzare un piano, un sogno di Dio, che è un mondo certamente diverso da quello che abbiamo tra le mani. Per concludere, un tuo messaggio particolare alla manifestazione di oggi a Firenze, facciamo insieme un passo di pace. Quale può essere il ruolo vostro delle missionarie komboniane in Africa per il processo di pacificazione? Quello di esserci. Penso molto importante. Komboni diceva che vorrei avere mille vite per poter dedicarle tutte all'Africa. Oggi noi, per ci rendere conto che non bastano più le mille vite, vorremmo altre vite, altri giovani, altre persone che oltre a… c'è uno delle possibilità di… perché questa pace veramente in non di scoppi nel nostro mondo sia quello di mettersi veramente a fianco dei popoli e cercare di insieme, di pretendere, di lottare, di fare di tutto perché la vera pace che è la base della dignità della persona umana possa veramente essere il pane quotidiano di tutti i nostri popoli. Quindi un messaggio ai giovani, soprattutto presenti in questa manifestazione, non abbiate paura e non lasciatevi rubare, direbbe Francesco, la voglia di diventare compagni di viaggio dei popoli che cercano la pace. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.